Pronto? Pronto, c'è Francesco? Guarda che Francesco non abita più qua, chi è che parla? Ah, ma dov'è quella canaglia del canaglia? Dov'è che lei è andata a finire il caso? Ma chi è che parla? Pronto? Sono Luigi Lei è un suo amico Quando è che il peditolo ha il Francesco? Allora, Francesco ha un altro numero di telefono Ah, è un altro, ah ho capito Lei non me lo può dare, eh? In questo momento no Va bene, senta, richiamo, però intanto me lo saluti Quei canaglia di un canaglia, eh? Va bene Salve, salvela